Vivere il nuovo format tv che prende a 360 gradi i nuovi disagi e nuove malattie che stanno consumando pian piano le nuove generazioni tratteremo grazie a degli ospiti, a degli esperti come riconoscere queste malattie, come affrontarle e come poi risolverle e quindi curarle Vivere andrà in onda ogni lunedì sera alle 22.30 appunto su Arezzo TV e poi ci saranno repliche dal lunedì appunto alla domenica quindi vi aspettiamo per riuscire insieme a noi a creare una nuova forma di cultura